Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il professore Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che questo pomeriggio mi accompagna in questa conferenza stampa. Innanzitutto oggi due dati positivi. Diminuiscono il numero dei ricoverati nei reparti ordinari e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Il totale delle persone attualmente positive è di 91.246 persone con un incremento di 2.972 pazienti rispetto a ieri. Di questi 3.977 sono in terapia intensiva con una diminuzione di 17 unità rispetto a ieri e 28.949 sono ricoverati con sintomi. Anche qui registriamo una diminuzione di 61 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi, in totale 58.320, pari al 64 per cento del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Per quanto riguarda i deceduti oggi registriamo 525 nuovi deceduti, è il numero più basso di deceduti rispetto alla data del 19 marzo, dal 19 marzo ad oggi. Il totale dei guariti è di 21.815 pazienti. Rispetto a ieri le persone guarite sono 819 in più. Per quanto riguarda la CROSS risultano trasferiti alla data di oggi 116 pazienti dalla Lombardia, di cui 76 pazienti afflitti da coronavirus e 40 pazienti non colpiti da coronavirus. Un'altra buona notizia è quella che da oggi si interrompe il trasferimento dalla Lombardia verso altri ospedali, perché la situazione degli ospedali della Lombardia è tale per cui non c'è più bisogno dell'alleggerimento di pazienti dalle terapie intensive della Lombardia. La CROSS rimane attiva ed è pronta a riattivarsi in caso di necessità per la regione Lombardia e per le altre regioni. Un'altra notizia positiva è quella che arriva dallo Spallanzani. Per la prima volta i pazienti dimessi sono più numerosi di quelli ricoverati e quindi nel trend generale della riduzione dei pazienti ricoverati. Per quanto riguarda le forze in campo registriamo 15.550 volontari, a questi si aggiungono i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia e il personale sanitario. Le tende che sono installate all'esterno degli ospedali per il pretriage sono in totale 820 e 151 sono le tende di pretriage negli istituti penitenziari. Voglio concludere dicendo che oggi ho dato una serie di buone notizie ma voglio anche ricordare che queste notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia. Voglio ribadire l'importante messaggio che il Presidente Conte ha espresso anche oggi è fondamentale continuare a stare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze e necessità. Io mi fermo qui, do la parola al Professore Brusoferro. Prego Professore. Grazie Dottor Borrelli, buonasera a tutti. Beh, alcuni brevi commenti. Il primo commento è l'evidenza di come ci siamo più volte detti in questi giorni che la curva ha raggiunto il suo plateau e adesso ha iniziato la discesa e fortunatamente ha iniziato la discesa anche il numero dei morti, che è un altro dato estremamente importante, che però come sappiamo sono sono eventi che hanno iniziato, hanno contratto l'infezione due settimane fa. Quindi questo vuol dire che un po' tutto il sistema sta portando a un rallentamento significativo della diffusione. Il secondo elemento mi associa a quanto ha detto Dottor Borrelli. Questo dato positivo, che ci aspettiamo nei prossimi giorni possa essere confermato, è un dato che però va conquistato giorno dopo giorno e quindi le misure adottate sono efficaci da questo punto di vista, ma è altrettanto importante che manteniamo questo tipo di attenzione, questo tipo di rispetto delle misure, perché sono proprio queste misure che ci aiutano a far decrescere la curva. Il terzo elemento di riflessione è che dovremo cominciare a pensare a una fase 2, come l'ha definita il Presidente del Consiglio Conte, e ovviamente questa si può pensare se questi dati si confermano, perché vuol dire cominciare a riflettere su come mantenere basso il contatto, la diffusione della malattia, perché è l'unico requisito che ci consente poi di mantenere o di considerare misure o alternative necessarie alla nostra vita, ma allo stesso tempo necessarie a mantenere il numero di nuove infezioni sotto la soglia del famoso R0 uguale a 1, ma soprattutto contenerle al massimo possibile. Mi fermo. Diamo spazio alle vostre domande. Buonasera, Giorgia Sodaro a DN Kronos. Ieri c'è stata l'ordinanza della Lombardia, come l'avevamo già chiesto anche ieri, che impone ai cittadini di uscire comunque con naso e bocca coperta. Oggi il Sindaco di Milano ha detto che rispetterà questa ordinanza, ma di sentirsi disorientato dalle parole del Commissario Borrelli, che appunto ieri ha detto che non indosserà la mascherina perché rispetta le distanze di sicurezza. Quindi su questo volevo un chiarimento, visto che non solo lui, ma anche altri si sono detti disorientati da queste parole. Mi dispiace essere stato nuovamente frainteso. Io avevo detto che non indosso la mascherina perché ovviamente le misure del distanziamento sociale, almeno negli ambienti in cui io mi trovo, posso rispettarle. Ho detto che è importantissimo l'uso della mascherina, lo voglio ribadire. Intanto voglio ribadire che l'ordinanza della Regione Lombardia va rispettata, perché ovviamente un'ordinanza si rispetta. E' importantissimo l'uso delle mascherine, soprattutto in quei in quegli ambienti in cui non si riesce a rispettare in modo rigoroso la distanza e quindi in metropolitana, nei mezzi pubblici, nei supermercati. Le mascherine sono importanti perché evitano la diffusione del contagio. Lo ribadisco, il senso della mia risposta era questa. Io sono qui dentro tutto il giorno e, come mi vedete, non porto la mascherina ma per una semplice ragione, perché qui non ho possibilità di trovarmi in luoghi in cui c'è l'esposizione al rischio, dove ci possono essere più persone nello stesso ambiente. E aggiungo una cosa al professor Brusaferro. Il fatto di aver incluso anche foulard e altre cose, questo non può essere un po' fuorviante, diciamo, per i cittadini di uscire comunque, usare un foulard come una mascherina? Allora io credo che dobbiamo ricordare dal punto di vista tecnico scientifico che le misure per, diciamo, contrastare la diffusione di questa infezione sono da una parte il distanziamento fisico, dall'altra il lavaggio delle mani. Non dimentichiamo che comunque il contatto diretto e indiretto attraverso mani è un altro elemento estremamente importante. Quindi una fortissima raccomandazione a mantenere altissima l'attenzione verso il lavaggio delle mani con l'uso delle soluzioni idroalcoliche, con l'uso di lavaggio delle mani con acqua e sapone, ma quello è veramente uno degli elementi altrettanto importanti quanto quello delle mascherine e distanziamento sociale. L'altro tema importante è quello della protezione della via aeree che ha una duplice valenza. Può essere quello di evitare che se noi siamo portatori di qualche patologia, insomma delle famose goccioline, le diffondiamo intorno e questo potrebbe avvenire eventualmente laddove ci fossero delle persone positive senza saperlo. L'altra cosa può essere invece la protezione rispetto ad altre persone che invece possano veicolare delle loro patologie. Io credo che il passaggio veramente importante è il tema dei luoghi confinati, nei luoghi confinati dove può essere più difficile avere il mantenimento delle distanze quello è un tipo di misura che certamente aiuta. Le modalità con cui si possono condurre sono le più molteplici. A me preme ricordare che ci sono le mascherine cosiddette chirurgiche, quelle del personale sanitario, delle caratteristiche molto specifiche, hanno delle caratteristiche di filtraggio particolari che sono necessarie proprio nei contesti sanitari. Per la popolazione sono previste mascherine anche di livello di filtraggio un po più basso perché sono esposte a un rischio molto più limitato onestamente. Quindi dobbiamo avere molto chiaro che dietro il nome mascherina chirurgica si nascondono molteplici tipologie, almeno tre tipologie di prodotto. Quelle sanitarie intese come necessarie al personale sanitario hanno delle caratteristiche molto specifiche. Quelle per popolazione hanno caratteristiche specifiche ma con livelli di filtraggio più bassi rispetto a quelle sanitarie. Poi la normativa attuale prevede anche ulteriori possibilità di mascherine, le cosiddette mascherine dell'articolo 16, che invece non hanno una normazione particolare e che sono fondamentalmente dei sistemi di barriera rispetto alle vie respiratorie. Lorenzo Attianese dell'ANSA. Volevo chiedere al Dottor Borrelli in particolare, alla luce dell'ordinanza della Lombardia e dell'annuncio riguardo all'ordinanza toscana sull'obbligatorietà del corriso di volto e quindi delle mascherine in strada. Voi state pensando in che modo rimodulare anche se eventualmente la distribuzione in quei territori dove ci saranno delle ordinanze e in cui quindi sarà resa obbligatorio l'uso delle mascherine. Perché immagino che a questo punto ci sia una necessità maggiore per la popolazione vista l'ordinanza, quindi vista l'obbligatorietà. Allora io do una parte della risposta poi chiedo aiuto al Professore Brusaferro perché sta curando gli istruttori. Come ha detto prima il Professore Brusaferro nel nostro Paese si è avviato una fiorente attività di produzione di mascherine, mascherine ad uso della popolazione. L'Istituto Superiore della Sanità per quanto riguarda le mascherine chirurgiche ha ricevuto una serie di richieste che vanno autorizzate. Per la mascherina uso della popolazione non ci sono particolare formalità e su questo ci può spiegare meglio lui. Quindi io credo che le produzioni che si sono avviate consentiranno di rendere possibile la fornitura delle mascherine a tutta la popolazione. Vado a completare quanto ho detto nella risposta precedente e quanto poi il Dottor Borrelli ha specificato. Noi oggi abbiamo, diciamo, tre grandi tipologie di mascherine. Le mascherine cosiddette con facciali filtranti che sono prerogativa e sono necessarie per particolari tipologie di rischio che appartengono al personale sanitario. Poi ci sono le mascherine chirurgiche, ne ho parlato prima, che si dividono in tre categorie. Le prime due con gli standard più elevati appartengono ancora al personale sanitario. E poi ci sono le mascherine, diciamo, un po' più semplice, chirurgiche di tipo 1. Sono sempre classificate come dispositivi medici che però vengono previste per la popolazione in caso epidemici. Poi il nostro legislatore ha previsto anche una terza tipologia di mascherine che sono quelle del cosiddetto articolo 16 ovvero sia sono degli strumenti che possono essere fatti di materiale vario e che hanno la finalità, che non sono regolamentati per cui in realtà non hanno standard specifici da rispettare e che però hanno la finalità proprio di fungere da mezzi di barriera alle vie respiratorie. Bene, noi parliamo per quanto riguarda i facciali filtranti FFP2 e FFP3 c'è l'INAIL che ha il compito da sempre di sovraintendere e di autorizzare questo tipo di produzione. Per quanto riguarda invece il secondo tipologia, le mascherine chirurgiche intese come dispositivi medici quindi i tre livelli, l'Istituto Superiore di Sanità è chiamato a dare un parere e a supportare poi le aziende nel percorso di riconversione laddove queste lo stanno intraprendendo mentre l'ultima tipologia non richiede particolari autorizzazioni da parte di enti centrali. Per quanto riguarda il livello di produzione come credo ieri sarà stato già riferito dal professor Locatelli noi abbiamo avuto sostanzialmente attualmente parecchie aziende che hanno fatto una domanda per avviare una riconversione produttiva per produrre mascherine chirurgiche ribadisco mascherine chirurgiche e sono aziende che in qualche modo in alcuni casi ad oggi circa 79 di loro sono state autorizzate a produrre vuol dire che nella autocertificazione hanno dichiarato di avere rispetto dei parametri degli indicatori che vengono richiesti per questa tipologia di strumento. molte stanno lavorando per acquisire l'autorizzazione a produrre vuol dire l'autorizzazione di poter cominciare l'attività produttiva e di accumulare scorte presso la loro azienda e nel frattempo stanno producendo le cosiddette prove ovvero sia i test sperimentali che dimostrano che quanto viene autocertificato effettivamente rispettato alla luce delle prove tecniche che vengono richieste che sono prove tecniche definite a livello internazionale man mano che queste aziende poi producono le prove tecniche immediatamente l'istituto provvede ad autorizzare oltre alla produzione anche la commercializzazione questo è un po' l'iter però parliamo di mascherine chirurgiche che è una fattispecie specifica e che sono dei dispositivi medici come ho già descritto buona sera giorgia cardinaletti di giuno una domanda per il professor brusaperro oggi vediamo il numero dei decessi in insomma una buona diminuzione sono 525 e non vedevamo questo dato da dicevamo da marzo da metà marzo dobbiamo cominciare ad aspettarci una discesa nella settimana che verrà visto che abbiamo parlato appunto di morti relative alle settimane precedenti che cosa dobbiamo aspettarci dalla settimana che comincia grazie Lei ha colto molto bene la dinamica dei vari indicatori che usiamo in questa curva abbiamo gli indicatori dei nuovi infetti abbiamo gli indicatori di quelli che vengono ricoverati per patologia abbiamo l'indicatore che ci mostra i decessi che avvengono ogni giorno e sappiamo che i nuovi casi sono un po' il primo indicatore sono indicatori di un contagio avvenuto qualche giorno fa sostanzialmente una settimana fa i ricoveri e i decessi invece sono indicatori di contagi avvenuti a distanza di 10-15 giorni o anche più noi abbiamo indicatori l'abbiamo visto venerdì nella conferenza stampa quando vi abbiamo mostrato un po' le curve abbiamo spiegato l'R0 che ci mostrano che il numero dei nuovi casi è in fase decrescente e quindi ci aspettiamo che per trascinamento anche i ricoveri nelle terapie intensive e anche i morti e anche i decessi vadano in decrescita il dato è coerente con il dato di decrescita anche del numero di nuovi casi questo è un elemento estremamente importante un elemento positivo quindi l'atteso è che nei prossimi giorni vedremo questo trend continuare Buonasera Daniele Petraroli Tg2 intanto una piccolissima cosa e mi chiedevano i medici di base se la potevate chiarire le mascherine quelle che vanno distribuite quelle famose 620.000 se volete precisare che vanno date solamente i medici convenzionati e non a tutti gli iscritti all'ordine dei medici se no si rischia che anche qualcuno che non lavora più o piuttosto qualcuno che lavora nel privato o che lavora negli ospedali riceva le mascherine e quindi poi i medici di base veri che lavorano sul territorio arrivino di meno questa è una piccola parentesi poi volevo chiedere al professor Brusaferro da quello che mi risulta a Nerole a Contigliano stanno andando avanti queste queste sperimentazioni sui tamponi veloci dovrebbero concludersi entro la settimana e dovrebbe esserci la validazione entro la settimana se me lo può confermare da quanto ne so io non sono riuscito a parlare ancora con lo Spallanzani addirittura i tamponi veloci sarebbero migliori risultati dei tamponi veloci rispetto ai tamponi normali quindi a che punto siamo su questo poi Dottor Borrelli una cosa che è uscita proprio in questo istante sui dati soprattutto delle mascherine e dei dispositivi sanitari la Regione Lombardia riporta dei dati molto differenti da quelli che risultano dal sistema ADA quindi volevo capirne di più innanzitutto loro dicono che ne hanno procurati molti più dispositivi loro rispetto a quelli arrivati dalla protezione civile ma in particolare volevo chiederle secondo loro sono arrivate dalla protezione civile 1.800.000 mascherine sul sito della protezione civile ne trovo 8.800.000 com'è possibile questa discrepanza? Grazie Allora partiamo dal primo dato per quanto riguarda il primo dato che è quello relativo alla fornitura delle mascherine per i medici di base io trasferirò al Commissario Arcuri ovviamente questa indicazione è evidente che le mascherine servono per i medici in attività altrimenti non necessitano di mascherine FFP2 riguardo al sistema ADA io adesso qui non ho con me il dato di quello che ha distribuito il Dipartimento della protezione civile il dato che ha messo il Commissario ha indicato nel sistema di monitoraggio il dato riscontrato con le Regioni adesso verificheremo e vi faremo sapere anche su quello che abbiamo noi consegnato oggi non ho con me il file riepilogativo Il tema della diagnostica è un tema ricorrente in questi giorni sia per quanto riguarda la diagnostica molecolare ovvero sia la ricerca dell'RNA attraverso il tampone sia per quanto riguarda gli esami sirologici è una... come lei ha fatto notare giustamente ovviamente è in progress quindi dobbiamo vedere dei dati e credo che sia molto importante sottolineare un elemento oggi ci sono moltissimi gruppi italiani che stanno testando stanno validando sia test irologici sia test molecolari questo è un elemento molto importante credo però che appena abbiamo i dati possiamo commentarli in questo momento sono test in progress quindi è difficile poter trarre delle conclusioni fino a quando il campione ovvero sia la quantità di esami che viene testata per dare che viene definito di solito sulla base del livello di significatività che tu vuoi raggiungere solo quando hai raggiunto questo numero puoi effettivamente poi esprimere un giudizio prima rischia di essere azzardato comunque non avere poi non dare un'informazione corretta quello che posso confermare però se entro la settimana giusto un orizzonte temporale quando finirà se l'avete ovviamente può essere che non si sa ma l'auspicio è che entro la settimana quello che posso testimoniare è che i ricercatori dello Spalanzani così come i ricercatori dell'istituto i ricercatori ma anche gli operatori di tutta Italia perché in questi giorni parlavo anche con alcuni colleghi di vari ospedali stanno mettendo a punto dei meccanismi estremamente interessanti per velocizzare questo tipo di esami ma anche per per esempio in qualche modo ovviare ad alcune carenze per esempio di reagenti e allo stesso tempo aumentare la produttività questo va a testimoniare un ruolo importante che ha un po' la ricerca e anche gli operatori e ricercatori in tutta Italia perché questo sforzo comune effettivamente può aiutarci a superare un momento critico perché poi il tema della disponibilità di test diagnostici è estremamente importante perché la disponibilità può influenzare anche le modalità e le politiche che usi o che puoi raccomandare nell'adozione di questi test questo è un elemento importantissimo avere grande disponibilità consente effettivamente di poter fare anche altre scelte e di poter modellare al meglio la politica per il controllo della diffusione dell'infezione. Buonasera Anna Milan di Radio Rai Sappiamo che i numeri del contagio reale potrebbero essere molto più ampi rispetto a quello che appare anche seguendo l'andamento dei tamponi c'è lo studio dell'Imperial College che ci dice di possibili 6 milioni di italiani contagiati c'è lo stesso Ricciardi che ha parlato della possibilità di un 20% della popolazione infetta sappiamo che è molto difficile ma ci potete dare un dato ci potete dire qualcosa di più che si avvicini a un possibile dato reale e questo come influirà sulla discesa su quella discesa che abbiamo capito che ci avete detto che sarà lenta? Allora in questo momento quello che è in fase di organizzazione è uno studio di prevalenza su scala nazionale è uno studio che va a individuare che mira ad andare a individuare persone che abbiano sviluppato una reazione immunitaria alla infezione ad oggi noi abbiamo stime e sono stime molto diverse tra loro per cui si parla del 5% del 10% qualcuno più del 10% dal punto di vista del significato di questo numero il significato è particolarmente critico ovvero sia avere un italiano su 10 un italiano su 20 che ha sviluppato una infezione ha sviluppato una risposta immunitaria vuol dire avere la larga parte della larghissima parte della popolazione ancora suscettibile questo tradotto in termini molto concreti avere una larghissima parte della popolazione suscettibile vuol dire che questa popolazione potenzialmente può diventare positiva o può contrarre l'infezione quindi al di là del valore numerico e certamente anche noi ricercatori siamo estremamente interessati a conoscere la dimensione del fenomeno il significato pratico di questa conclusione è che comunque dovremmo e dobbiamo usare molta cautela e usare misure di distanziamento ed altre misure ancora ancora perché in realtà ripeto in ogni caso se fosse il 90% se fosse l'85% se fosse il 95% ancora suscettibile è un numero molto significativo ed è un numero che se allentiamo l'attenzione o se non siamo particolarmente attenti a controllare la diffusione dell'infezione facilmente può far ripartire la curva epidemica. Buonasera Lorenzo De Cicco del Messaggero e al professor Brusaferro volevo chiedere visto che prima abbiamo parlato dei test sul versante dei farmaci se tra i vari farmaci testati in queste settimane abbiamo sentito tutti di diversi studi ce n'è uno che sta dando migliori risultati e al dottor Borrelli invece vorrei chiedere se teme per Pasqua e Pasucchetta un aumento delle persone fuori casa i dati di questo weekend parlano di 9.000 multati quindi se a suo parere è necessario rafforzare i controlli per evitare di vanificare lo sforzo fatto dal Paese fin qui con il lockdown. Grazie. Ora sul tema dei farmaci come ha detto ieri il professor Locatelli AIFA sta facendo un lavoro splendido di coordinamento ed è anche di grande trasparenza sul suo sito di tutte le attività dei trial e delle bracci di sperimentazione che sono attivi e purtroppo io capisco l'attesa però occorre anche in questo caso avere un numero di casi sufficientemente adatto insomma al campione adatto numericamente sufficiente a poter valutare l'effetto di questi farmaci è ancora un po' presto per fare questo ci vuole non è un qualcosa che viene su base quotidiana ma occorre raggiungere questa dimensione del campione che viene stabilita dai ricercatori che lavorano che lavorano presso AIFA nella CTS di AIFA o anche dai ricercatori che propongono la sperimentazione la cosa che possiamo dire è che in realtà ci sono veramente molti studi che vengono proposti quelli che passano il vaglio di un disegno sufficientemente solido e di una plausibilità scientifica poi vengono inseriti immediatamente credo che AIFA non appena raggiunge le soglie è un interesse di tutti rendere pubbliche le soglie minime per poter dire che effettivamente la probabilità che questo principio attivo che quel tipo di trattamento migliori significativamente le condizioni di salute o di sopravvivenza credo che sarà tempestivamente comunicato però bisogna avere un po' di paziente richiedono tempi e numeri cioè un numero sufficiente di pazienti che viene sottoposto e questo richiede anche tempi per poter poi valutare l'impatto sul decorso clinico delle patologie quindi non sono in grado di dare notizie in più di quelle che già sappiamo del numero di sperimentazione gli studi esaminati quelli che sono in progress in fase istruttoria quelli che non hanno superato il vaglio della CTS di AIFA che se volete ve li dico ma credo l'abbia dato ieri il professor Locatelli quindi non li ribadisco sul tema del pericolo che ci possa essere un allentamento di quelli che sono i comportamenti lo abbiamo tutti quanti evidenziato è importante che vengano mantenuti i comportamenti molto stringenti che corrispondono a quelle che sono le disposizioni che sono state impartite io voglio in questa occasione proprio perché lei mi ha fatto la domanda ringraziare le forze dell'ordine le forze di polizia che ogni giorno effettuano a diverso livello sul territorio nazionale controlli perché questi controlli costituiscono un deterrente ma a mio giudizio quello che conta è il comportamento assolutamente responsabile che dobbiamo tenere ognuno di noi lo diciamo tutte le sere lo dicono tutti coloro i quali intervengono sul tema e quindi confidiamo veramente nel atteggiamento della popolazione che deve essere corretto e coerente con il comportamento che viene richiesto Bene allora se non ci sono altre domande chiudiamo qui buona serata a tutti Buona serata e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti